Salve a tutti, oggi tenterò di fare un video con un simulatore vocale, dato che la mia voce non piace a nessuno, nemmeno a me. Credo che tutti sappiate che è morto cantante dei Linkin Park, Chester Bennington. E' stato confermato il fatto che sia morto suicida, premesso che fondamentalmente chi ha parlato di Chester ne ha parlato bene, con ammirazione, per la sua musica, e via di seguito. Ma qualcuno si è permesso di giudicarlo per il fatto che si sia suicidato, cioè si sono permessi di dire che lui è un vigliacco che scappa dalla vita, che ha lasciato sei figli. E che c'è gente che darebbe qualunque cosa per vivere un attimo di più in caso di malattia o altro. E che a prescindere dalle difficoltà che affronti nella vita devi sempre lottare, che in Africa stanno peggio di te, e cose simili. Cose del genere le può dire solo una persona che non ha idea di cosa siano la depressione e la dipendenza dalle droghe e dall'alcol, non potendosi immedesimare nei problemi altrui si fanno giudizi affrettati e sbagliati. Non a caso gli psicoanalisti fanno dieci anni di psicoanalisi su se stessi presso un altro psicoanalista mentre fanno la formazione universitaria prima di diventare psicoanalisti. Se non affrontano prima i loro problemi, perché ce li abbiamo tutti, non possono aiutare gli altri. Bisogna mettersi a tutti gli effetti nei panni altrui per poterli capire, altrimenti non li puoi nemmeno aiutare. La depressione, a prescindere da chi o cosa sia stata causata, ti fa soffrire a prescindere in un modo indescrivibile? Il fatto che in Africa stanno peggio di te non ti fa stare meglio, anzi, se pensi agli africani ti deprimi ancora di più. Una persona che soffre di depressione e addirittura è anche dipendente da sostanze e alcol non è nelle condizioni di pensare ai lati positivi della vita, alle cose belle che la vita ti ha dato, come i figli, la musica, i soldi, ecc. O al fatto che c'è gente malata che non vuole morire e che darebbe qualunque cosa per avere un minuto di vita in più, o cose simili. E nemmeno riesci a pensare ai figli, che sono rimasti senza padre, o ai fan del gruppo che lo piangeranno per sempre. Io sono d'accordo sul fatto che il suicidio è la morte meno dignitosa che esista, perché dopo avere sofferto tutta la vita arrivi addirittura a questo gesto. Ma non voglio nemmeno dire che è giusto uccidersi, dico solo che le persone non devono essere messe nelle condizioni di volerlo fare o addirittura di farlo. E che bisogna cercare di comprenderli perché di un gesto così estremo, non bisogna né imitare né giudicare. In descrizione vi lascio il link del video per l'inspiegabile che cerca di fare chiarezza sulla depressione, cercando di sfatare luoghi comuni e pregiudizi. Spero di essere stato chiaro, alla prossima, un po' di più.